Siamo al 23esimo minuto, Parma 1 Palermo 0 ha segnato Belfodil al 17esimo minuto. Allora vi raccontiamo subito la rete dell'attaccante Franco Algerino, angolo dalla sinistra. Belfodil è lasciato solo soletto a 3 metri dalla porta, è scivolata con il piede destro, l'ha messa dentro senza alcuna difficoltà. E questo è il sesto gol in campionato per l'attaccante del Parma Belfodil. Qualche istante più tardi, poi al 18esimo minuto, Sanzone, sempre del Parma, è andato davvero vicinissimo al raddoppio. C'è stata una conclusione dalle limite, dai 16 metri, una leggera deviazione e la grandissima parata di Benussi. Dunque adesso la partita è decisamente più vivace perché il Parma farà di tutto per ristabilire la parità. La situazione, siamo al 24esimo minuto, al Tardini, Parma 1 Palermo 0 Genova.